Il film. Ciao. Noi siamo i prossimi, ok? Quindi lascia parlare me e non fare niente che ci possa compromettere. Dammi la bottiglia. Ok. E le pillole? E le pillole? E le pillole? E il cuscino spernacchiante. Will, come faccio a fare lo scherzo della pasta ai fagioli se mi prendi questo cuscino?